Conferenza stampa al Comune di Agrigento, consuntivo della settantessima edizione della Sagra del Mandorlinfiore. Gli interventi al videogiornale. Gloria Scafè. Nell'attività commissariale svolta al Comune di Agrigento da Luciana Giammanco, un segno positivo fra gli altri si appone all'esperienza della Sagra del Mandorlinfiore e al Festival Internazionale del Folclore. Una scommessa che si è conclusa positivamente, siamo andati ben oltre le più rose aspettative, ha dichiarato la commissaria Giammanco. A dimostrarlo sono i numeri sull'importo previsto e quello effettivamente impegnato. A fronte di un piano di 154 mila euro ne sono stati spesi 152 mila e 925, circa 2 mila euro in meno rispetto alla previsione. Certamente la sinergia con il Parco archeologico Valle dei Templi è stata strategica per il piano finanziario. Gli introiti dei biglietti venduti per gli spettacoli sono stati superiori alle aspettative. La vendita totale di 1.490 biglietti sulla previsione di 800 e l'incasso di 21.579 euro a dispetto dei 14.100 euro previsti. I tempi sono stati veramente ridotti e le risorse finanziarie molto esigue. Quindi ci siamo dovuti muovere all'interno di un budget molto ristretto con l'impegno di non sforare neanche di un centesimo. Questa è stata una scommessa vinta, sono molto contenta di questo perché rientra nel piano di rigore che io ho voluto seguire in tutta l'attività di amministrazione di questo comune da quando mi sono insediata. Abbiamo scommesso sul fatto che la Sagra fosse un richiamo per tutti. Così è stato e abbiamo incassato circa un terzo in più di quello che avevamo previsto. E alla fine tra minori spese nel piano finanziario e maggiori incassi, per carità so che sto dicendo una cifra veramente irrisoria, ma il comune ci ha guadagnato 8.000 euro. Alla fine cosa voglio dire? Che si possono organizzare, si possono organizzare buone manifestazioni, vincere sfide, programmarle sicuramente aiuta di più e il comune può incassare invece che spendere soltanto. L'auspicio della Commissario è che per l'organizzazione futura le redini rimangano nelle mani di Francesco Bellomo per il coordinamento generale della Sagra e del Festival e di Nino Lauretta per la direzione organizzativa. Ritengo che il risultato è proprio considerando le attenuanti del tempo e della scarsezza di risorse ci abbia sostanzialmente dato ragione. Quando osservo i miei spettacoli mi metto sempre dalla parte dello spettatore e devo dire che questa volta, ribadisco pur con tutte le attenuanti, il risultato del lavoro che abbiamo fatto ritengo che sia assolutamente dignitoso. Ecco, cosa poteva essere fatto in più? Cosa è mancato? Ma è mancata sicuramente la possibilità di avere più gruppi, la possibilità di avere dei testimonial che mi avrebbero consentito di esportare il prodotto Sagra mediaticamente come ho fatto nelle precedenti edizioni in cui ci sono stato io. Inevitabilmente, come ho avuto modo di dire, parlando con i direttori artistici di alcuni network, c'è la necessità dei testimonial che facciano da traino alla manifestazione. Qual è stata l'arma vincente da un punto di vista artistico in questa Sagra? Il puntare come spesso si fa col Festival Internazionale del Folcore, che qualcuno pensava nel passato di poter cancellare, e che invece si è mostrato la manifestazione portante e che è avuto successo non solo di pubblico all'esterno ma anche al teatro, tant'è che vi è stato un incremento almeno del 30% dei biglietti. Tutto ciò in pochissimo tempo, se consideriamo che siamo dovuti ripartire soltanto a metà gennaio, in quanto eravamo già pronti per settembre, però per le note vicende economiche abbiamo dovuto temporeggiare e ricominciare a gennaio e quindi in poco più di un mese siamo riusciti ad allestire una Sagra dignitosa, un ottimo Festival Internazionale del Folcore, che comunque ha attirato e si è mostrato, come dice lei, l'arma vincente di questa Sagra Armandone in Fiore. La Sagra è e deve essere di aggrigento, commenta Gianmanco. A confermarlo è stato, oltre l'incasso, la presenza del numeroso pubblico nonostante il tempo inclemente. Sulle date a venire ci si orienterà in modo diverso, probabilmente dal 21 marzo in poi.